Musica Un'azienda con 43 anni di storia, siamo alla seconda generazione, ispirazione maschile ma poi spazia veramente nello stile. Sì, la nostra è un'azienda appunto come già dice nata 43 anni fa che ha sempre puntato comunque a un prodotto di fascia alta, un prodotto di grande stile e di grande qualità. I contenuti del prodotto sono fondamentali perché oggi quello che ci può far fare la differenza nel resto del mondo, almeno quella che è la nostra arma di successo, è la grande qualità unita a quello che è uno stile contemporaneo ma che mantiene determinati canoni che nel mondo maschile sono importanti a rispettare. La nostra è un'azienda testimone di quella che è un po' la marchigianità calzaturiera, comunque un territorio di grande esperienza e dove forse ormai la storia della calzatura maschile ha dato dei grandi segni di stile e di forza. Lo stile maschile ha contagiato anche lo stile femminile? Sì, abbiamo anche noi da circa un paio d'anni iniziato con una collezione femminile che comunque prende ispirazione da quelli che sono i nostri best seller nel mondo maschile. Tra l'altro diciamo quello che noi riusciamo a fare con i nostri prodotti femminili è dare un sapore che va oltre quello che una semplice azienda, o una comune azienda che realizza prodotti femminili può dare, perché comunque le nostre lavorazioni, quello che noi facciamo sui materiali, lavorando comunque con le anticature, le patinature fatte a mano, sono delle operazioni che richiedono comunque una grande esperienza che in 43 anni diciamo abbiamo accumulato. Grazie a tutti!